Ciao, sono Marcello De Carolis e oggi ti parlerò della mia estate 2021. Purtroppo, come già mi aspettavo all'inizio di quest'estate, molti dei concerti già programmati da tempo sono stati annullati. Le nuove norme di sicurezza e l'obbligo di Green Pass hanno spaventato molti organizzatori che, per non rischiare nuovi focolai di contagi di Covid-19, hanno preferito annullare gli eventi. Ma non sono qui per lamentarmi o colpevolizzare, ma per guardare a ciò che di bello c'è stato, nonostante le grandi difficoltà. L'inizio dell'estate 2021 per me è stato il 22 giugno. Infatti ho pubblicato il videoclip di Spen, girato da Vito D'Andrea, presso il castello di Laurenzana, con i miei compagni di viaggio Luca Fabrizio a Lucubas, Luciano Brancati al Coon e Domenico Picciani al Flauto Traverso. E ancora il 27 giugno il primo concerto estivo con Raffaello Simeoni, Marco Iamele e Carlo Ferretti presso i luderi della chiesa di San Giovanni a Contigliano, in provincia di Rieti. Un inizio di concerti estivi emozionante in un posto davvero particolare. Luglio è iniziato subito con una nuova pubblicazione. Infatti, l'1 luglio ho pubblicato il capriccio sul nome Bach, composto da Roberto Piana. Questa volta la scrittura per chitarra battente di un compositore pianista ha scoperto nuove possibilità tecniche, ma soprattutto espressive, della chitarra battente. Il 26 luglio è stato anche il ritorno ai concerti del mio duo Cordaminazioni, fondato con Luca Fabrizio. Abbiamo suonato in un concerto all'alba a Potenza per la rassegna La Notte Bianca del Libro, in una mattina dedicata al suo uno scrittore Dante Alighieri. Il mese di agosto è stato molto impegnativo e ho fatto parecchi chilometri in giro per l'Italia. Ho iniziato il 3 agosto a Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con Luca Fabrizio nel nostro duo Cordaminazioni. Per la rassegna I luoghi della musica, ventiquattresimo festival internazionale di musica da camera in Irpinia, organizzato dalla pianista Antonella di Linco, ci siamo esibiti negli splendidi giardini pensili del castello d'Aquino. Il 5 agosto ho suonato nella nostra capitale, Roma, con Raffaello Simeoni, Marco Iamele, Carlo Ferretti e Alessia Salvucci. Sotto il ponte Milvio ci siamo esibiti per la rassegna Parco Milvio. Il 9 agosto, sempre con Raffaello Simeoni, Marco Iamele, Carlo Ferretti e Alessia Salvucci, abbiamo suonato a Cursi, in provincia di Lecce. Questa volta, per il festival Ragnatele, facendo parte del festival itinerante della Notte dell'Atalanta. Il 10 agosto, con il mio trio, con Luca Fabrizio e Luciano Brancati, abbiamo suonato a Favlo, in provincia di Terni. E sono davvero orgoglioso di essere stato invitato dal maestro Maurizio Mastrini per il terzo anno consecutivo al festival internazionale Green Music, che scopre i teatri naturali dell'Uno. Tornando nella nostra Basilicata, il 16 agosto, con Luca Fabrizio e il nostro duo Cordaminazioni, ci siamo esibiti nella splendida Concattedrale di San Michele Arcangelo, per i concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale. Il 17 agosto, con Luca Fabrizio e Luciano Brancati, abbiamo portato la nostra musica e la mia chitarra battente in uno dei borghi più belli d'Italia, proprio qui in Basilicata, a Castelmezzano, in provincia di Potenza. E il 18 agosto, ancora in Basilicata, nel nostro capoluogo di regione, a Potenza, ho suonato con Massimo Rosa al Palazzo della Cultura di Potenza, nel duo classico, chitarra classica e violino, sperimentando la sonorità della chitarra battente con il violino. E ancora altri due concerti con Raffaello Simeoni. Il 23 agosto, a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Abbiamo suonato con Marco Iamele e Alessia Salducci. E il 24 agosto, in duo con Raffaello Simeoni, abbiamo suonato presso lo splendido Teatro Comunale Concordia di San Benedetto del Trotto. E infine, l'11 settembre, con il mio trio con Luca Fabrizio e Luciano Brancati, abbiamo chiuso la stagione estiva a Pietrapertosa, altro borgo tra i più belli d'Italia, per il Borgo Festival. Ma nuovi appuntamenti ci saranno per il prossimo autunno ed inverno. La speranza è quella del ritorno alla normalità e di sicuro ci saranno molti concerti dal vivo e nuove incisioni. Ma non voglio svelarti troppo, dato che c'è anche altro che bolle in pentola. Grazie per l'attenzione, per restare aggiornato su tutte le mie novità, segui il mio sito www.marcelodecarolis.com Iscriviti alla mia newsletter per restare sempre informato sulle novità del mio blog, i miei social Facebook, Instagram, Spotify, Amazon ed iscriviti al mio canale YouTube, qui sotto. Ti lascio alla mia estate in un minuto. Iscriviti al mio canale Iscriviti al mio canale YouTube, qui sotto. 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 Grazie a tutti